Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un altro video oggi voglio insegnarvi una nuova tecnica per coprire le occhiaie e in questo periodo ho un po' sperimentato perché se avete visto l'altro video, quello in cui faccio una specie di get ready with me in cui vi faccio vedere tutte le collezioni o meglio tutti i prodotti che avevo acquistato delle varie nuove collezioni, vi ho fatto vedere anche la palette di correttori di Wicom quelle con le tre cialdine in cui c'è quel colore meravigliosamente pericoloso ovvero il colore aragosta che è un colore che va tantissimo se voi avete instagram, suppongo che lo abbiate, oramai tutti hanno instagram vedete quelle micro clip in cui ci sono queste ragazze che prima mettono sul viso tipo 50 colori, il rosso sotto agli occhi, punti di verde, marrone, bianco poi dopo sfumano con il fondotinta e sono strafiche e buone se lo faccio io, sembro la nonna di It, sempre la nonna di It no, diciamo la sorella di It, no, sempre sta nonna mi sento troppo vecchia nell'ultimo periodo, perché mai? comunque ho cercato quindi di trovare un modo per utilizzare un colore così particolare e anche molto coprente perché se voi avete quella palette sapete che quei colori soprattutto questo colore aragosta tinge tantissimo per cui è veramente pericoloso oltretutto io un po' di tempo fa, nel periodo di Pasqua l'avevo utilizzato insieme ad un fondotinta che avendolo sul viso si è ossidato per cui l'ossidarsi del fondotinta ha portato fuori il rosso cioè praticamente ero un lupa lupa ma neanche un palumpa che ha preso il sole, no? per cui è diventato color aragosta appunto, mostruoso e quindi ho cercato di capire come utilizzarlo per photoshoppare quasi gli occhiai perché quel colore utilizzato correttamente dà proprio effetto photoshop ovviamente non si tratta di un look leggero dal vivo se voi stratificate tante creme e tante polveri ahimè si vede per cui quando vediamo quei trucchi bellissimi su Instagram quelle clip c'è una youtuber in particolare che è una youtuber, non so se sia brasiliano o portoghese perché parla portoghese si chiama Mari Maria Mari Maria Meca che appunto è una bellissima ragazza da struccata e stupenda ma ama farsi questi trucchi super scolpiti pieni di creme molto coprenti e appunto lei fa vedere molto spesso come utilizzare questo colore rosso e ahimè appunto per utilizzarlo dovete per forza utilizzare poi prodotti molto coprenti perché se no il rosso nel contorno occhi si continuerà a vedere per cui faccio vedere un po' come ho trovato la maniera giusta per utilizzare questo colore e vi dico anche che se io ho l'abitudine di mettere prima il fondotinta e poi il correttore per fare questa tecnica di Photoshop dal vivo devo per forza prima utilizzare i prodotti di correzione del contorno occhi e poi il fondotinta perché il fondotinta va comunque a stemperare il colore così vibrante del correttore per cui bandole ciancio e iniziamo subito i prodotti che andrò ad utilizzare sono appunto la palette la palette di correttori di Wipon ve la faccio rivedere è della collezione Free Love che trovate attualmente negli store perdonatemi ma ho fatto sto mantenendo le unghie lunghissime cioè lunghissime per i miei standard sono super lunghe e le ho fatte anche quadrate e sono un po' è questa qui la palettina spero che ve la ricordiate e andrò a utilizzare il color alla gosta salmone alla gosta il color aragosta che è questo qui e poi per andare a attenuare il colore rosso andrò ad utilizzare un altro correttore questo qua è un correttore High Coverage Concealer di Sephora che trovate attualmente nei store Sephora e mi piace tantissimo quando l'ho provato sulla mano ho visto che era super coprente e mi sono un attimo spaventata perché appunto questi prodotti molto coprenti sono anche veramente molto pesanti soprattutto quelli per il contorno occhi io non ho contorno occhi segnato non ho neanche qui le rughette per cui non è questo il problema il problema è che dopo un po' io tendo ad avere la pelle grassa per cui se il prodotto mi occlude estremamente i poli poi dopo se ne va via è una schifezza invece quando poi l'ho provato sulla mano l'ho fatto poi un giro tra gli altri stand mi sono resa conto che il prodotto benché così coprente si fissava e allora ho detto perché non dare una scienza a questo prodotto e allora ve lo vado a mostrare e quindi metterò insieme questi due questi due prodotti andrò a fare solo un occhio quindi solo una parte del viso con la correzione in modo tale che poi alla fine voi vediate la differenza tra una faccia e l'altra let's go ciao 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 come potete vedere il rosso spero che si noti ancora si intravede cioè per farvi capire quanto è coprente per cui un'altra cosa che vi consiglio è di non andare ad applicare sopra un correttore che sia molto aranciato come per esempio quello che trovate all'interno di questa palettina questo qui che vedete al centro è molto è molto 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 pescato e anche questo qua chiaro comunque tende a essere sul pesca per cui se andate a metterlo sopra a questo correttore arancione liberante sembrate che avete le rote di fuoco come a caronte invece se utilizzate perché io non sia una grande fan dei correttori chiari ma comunque se ne utilizzate uno beige chiaro quest'ultimo si andrà a miscelare man mano che lo andate a picchiettare con il colore arancione e quindi andrete a creare un colore pesca intermedio che comunque rimane un colore correttivo ora vado a stendere il fondotinta e andrò a miscelare il matt jacob cherry jacob cherry jacob è un po' caprese questo jacob jacob nella colorazione ivory medium e poi andrò a miscelarmi un po' con un fondotinta sempre fluido leggermente leggermente più scuro in modo tale da non essere proprio bianchissima e vediamo la differenza tra le due parti del viso e questo è il risultato finale come potete vedere la differenza tra le due parti del viso è molto marcata però se vedete la parte con il fondotinta è uguale al mio al mio collo perché io tendo ad avere il viso molto arrossato rispetto al collo che invece è bianco cadaverico poi ho un sacco di macchiette perché io ho mille allergie perché basta una cosa allergia ansia allergia o macchie ma tutto a posto comunque come potete vedere la correzione è molto 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 visibile l'occhiaia è ben coperta anche la borsa è minimizzata e questo è l'unico modo diciamo fattibile per utilizzare un colore così coprente e così vibrante perché se no è inutile se voi andate ad abbinare ad un correttore leggero e ad un fondotinta leggero benché voi ne mettiate poco ma io ne metto poco o no è troppo pigmentato per cui anche se fate la tecnica del rossetto rosso avete bisogno comunque di prodotti molto coprenti perché se no il risultato è una schifezza e diciamo che non è una cosa da fare tutti i giorni non lo consiglierei neanche per uscirci tranne se non avete una pelle così secca che praticamente regge tutte le creme del mondo basta un po' di sole basta troppe creme stratificate troppi prodotti super coprenti alla fine la pelle le vuole buttare via e quindi viene un pastocchio però se dovete fare delle foto siete truccatori o truccatrici e dovete fare un servizio fotografico avete bisogno di una pelle perfetta di porcellana oppure dovete fare un video per Instagram fotografie particolari allora sì secondo me è una tecnica fichissima e infatti appunto è una delle tecniche che le star di Instagram utilizzano tantissimo e spero che questo tutorial vi possa essere utile diciamo che non è un tutorial è proprio un modo per utilizzare un prodotto che avete comprato e non sapete proprio come fare io vi mando un bacio grandissimo e vi sento sempre qui su Makeup Nukes ciao ciao